Stasera Mantua Segreta, appuntamento naturalmente tradizionale di Telemantua, ci accompagnerà sulle tracce di Isabella d'Este e del suo matrimonio con Francesco II Gonzaga. E nella puntata di questa sera di Mantua Segreta avremo ospite lo storico dell'arte Lorenzo Bonoldi e parleremo oltre che del palazzo di San Sebastiano di un matrimonio patrimonio, quello tra Francesco II Gonzaga e Isabella d'Este. Devo dire che io capisco un po' Francesco che veniva considerato la parte più debole della famiglia e invece era un uomo con una forte personalità e allora per equilibrare il tutto ho chiamato Lorenzo Bonoldi che invece ha una visione diversa di questo matrimonio, vero Lorenzo? Sì, come dicevi tu, un matrimonio patrimonio, un'unione politica, economica, strategica, culturale, ma di Isabella bisognerà parlare anche bene e io parlerò nel modo migliore possibile. Vedete che la vita è fatta di equilibri e allora vi aspettiamo nella Mantua Segreta di questa sera perché così alla fine potrete decidere se siete a favore di Francesco II o di Isabella d'Este o se invece in realtà scoprirete che era un matrimonio che aveva molto da dire e molto da raccontare. Vi aspettiamo!